Allora ragazzi bentornati sul canale, era tanto tempo che non facevamo un video, ma oggi era il momento giusto per tornare a farvi vedere qualcosa. Che vi faccio vedere oggi? Vi faccio vedere in diretta dal Giappone il nuovo set dei tre fratelli Sabo, Ace e Luffy. Vediamo un attimino, allora l'ho comprato un po' di tempo fa, non l'ho comprato perché lo volevo apposta aprire insieme a voi, quindi vediamo un attimino che cosa c'è all'interno. Che sono molto 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 curioso. Allora all'interno troviamo il tappetino per le partite, il tappetino per le partite tematizzato, quindi come, giustamente non si apre, maledetto, come abbiamo già detto tema i tre fratelli, quindi molto 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 bello, quindi con la posizione per le carte per fare le partite che noi non faremo mai. Ovviamente ve lo faccio rivedere un attimino. Poi che ci abbiamo dentro? Oh, la scatolina porta carte. Questo utile non fanno mai, non sono mai abbastanza, ce ne ho già un paio, se non sbaglio sì, ma fanno comodo perché i doppioni ne usciranno sempre a quintali, con all'interno anche un bel divisorio, quindi comodo separare doppioni, serie, carte, quando le porti in giro, quindi altra cosa molto molto apprezzata. Poi c'è Ultimate Deck e tre fratelli, c'è qualcosa che non so. Cosa c'è qui all'interno? L'abbiamo subito, non ho le forbici, quindi andiamo... È una carta speciale, soltanto per il set? Oh mio, che bello! Oh, attenzione, Yamatona! Yamatona nazionale, bellissima questa, l'ho vista in questi giorni! Non sapevo che stava compresa dentro a questo setto! Che felicità! Che felicità! Questa già è una carta che da sola vale, 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 è il prezzo speso. E poi, oh, andiamo ad aprire. Prima carta che già si vede è una Don Hollow Arcobaleno, che sembra veramente, veramente, veramente bella. Le vediamo, ce la faremo, ma... Mazza, quant'è dura! Olè, ce l'abbiamo fatta! Allora, dai, le vediamo insieme a voi. Quindi, prima carta, Don. Seconda carta, Don. Ok, è vero, è vero, è vero, questi sono gli starter pack, ci sono molti, molti, molti doppioni. Quindi, vediamo un attimino insieme che cosa c'è. Allora, ci sono tante, tante, tante donne. Bababia, queste sono le carte speciali finale. Queste sono le carte speciali finale. Allora, subito, Mega Sabbo bellissimo. Mega Sabbo meraviglioso. Mega, mega, mega Ace. Pure lui, veramente, veramente, veramente bello. Mamma mia, queste sono veramente gagliarde di carte. E non poteva mancare, ovviamente, Rufy. Rufy, mega gagliardone. Mi so portato via anche una carta. Chi mi so portato via? Oh, mio padre è barba bianca. Mio padre è barba bianca, anche lui con sfondo colo. Ce ne sono, ce ne sono quattro, quattro barba bianca colo. Poi, oh. E attenzione, l'altro figaccione. Zio Ivankov. O zia Ivankov. Che dir si voglia, eh. Lascio scegliere a voi, di cui ce ne sono due. Grande. Anche lei, holo. Queste continuano ad essere le, diciamo, le carte speciali, eh. Di cui ce ne sono quattro. Poi, abbiamo un sabbo bambino. Quando esciva, esciva, quando usciva a fare le scoribande. E poi, subito, sabbo post presa frutto. Il frutto mera mera. Sono molto, molto bello. Questo set ha delle carte meravigliose. Rispetto agli altri starter pack, è proprio un livello totalmente diverso. Poi, il più amato dell'italiano è altro che a Cuccarini. Shanks. Anche lui, bello, bello gagliardone. Poi abbiamo un Ace Bambino. Mi incuriosisce il Shanks posizionato così, ma va bene. Ce lo facciamo andare bene. Ace Bambino. Di cui anche lui ce ne sono quattro, abbiamo detto. Ace, versione Sexy Coca-Cola. Baby, baby, sexy man. Machino. Che la potevano mettere insieme a Shanks. Visto che Shanks è uscito fuori del botto senza senso così. Ma adesso ho tutt'eolo, sto set. Mamma mia. Nonno Garp. Nonno Garp. Prendici a ceffoni. Dacci cazzottoni. Bellissimo. Oh, finalmente abbiamo anche un piccolo Luffy. Luffy, bambino. Abbiamo... Oh, anche questa l'avevo vista, ma non sapevo che stava in questo set. Questa è anche molto particolare, molto bellino con l'effetto di Luffy che sta caricando il pugno. Il disegno, la faccia non è proprio identica all'attuale Luffy, ma va bene. Mamma mia. La mia musa ispiratrice è Yamato. Ha Yamato? Ma che io vuoi dire Yamato? Ma che io vuoi dire Yamato? Cioè, io ce l'ho un po' di cose io vorrei dire Yamato, ma non si può, non si può. Poi, qui sempre quando Sabbo ha appena preso il frutto e allontana con il mega... il mega artiglio del drago. Dio, poi, regà, questa aiutatemi voi a decifrarla. Ah, no, l'ho capita, l'ho capita. Il colpo finale che dà Luffy a Monet. Ha fatto un fatichissimo a capirlo. Sembra Monet, sì, 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 dovrebbe essere Monet. E poi, vabbè, questa anche molto, 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 molto bella che riguarda tutti i momenti importanti di quando loro sono bambini. E questo è quanto, ragazzi. Io spero che questa opening vi sia piaciuto. Spero che possa aiutare qualcuna che magari ha idea di comprarlo o di importazione o appena arriverà anche in Europa perché arriverà anche in Europa, naturalmente, in versione inglese. Non so se le fanno tradotte in italiano, ma in ogni caso, allora, posso dire che questo, a livello di starter pack, è il più bello che finora ho mai comprato. Booster pack hanno delle carte molto belle. Negli starter pack di solito latitano, ma questo qua merita veramente. Quindi, ragazzuoli, io vi saluto, vi mando un bacione. Scrivetemi nei commenti qual è la carta che vi è piaciuta di più e ditemi se in caso volete vedere altri opening in intervino dal Giappone visto che si sta qua. Ciao, belli! Ciao! 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 Ciao!